Saranno indispensabili per vaccinare gli over 80 e i soggetti più fragili, ora è sicuro ad Armanforta, la regione Marche, ci saranno anche i medici di base con i quali è stato finalmente raggiunto un accordo a livello locale per la vaccinazione anti-covid dei pazienti di età o superiore ad 80 anni, impossibilitati a lasciare il proprio domicilio. Gli elenchi degli stessi verranno inviati ai singoli medici di famiglia che verificheranno le condizioni cliniche per un eventuale accesso domiciliare per vaccinare nel proprio studio o in una sede distrettuale. Poi in base alla disponibilità di vaccini i medici di base potranno intercettare anche i cittadini delle altre fasce d'età. Intanto sono partite le vaccinazioni anche per i soggetti estremamente vulnerabili già presi in carico dalle varie strutture sanitarie regionali, in questo caso non è necessaria la prenotazione, i soggetti verranno contattati direttamente dai servizi e vaccinati nelle strutture ASUR. Ieri l'assessore regionale Filippo Saltamartini in un post su Facebook ha cercato di rispondere alle numerose domande arrivate dalla cittadinanza dopo aver illustrato la classifica ufficiale sulle vaccinazioni e ha precisato che gli over 80 verranno vaccinati a domicilio dai medici di medicina generale, dal personale dei distretti e dalle ADI. In questo momento non ci sono i vaccini a disposizione, dai prossimi giorni si inizierà con gradualità, secondo le disponibilità. Non è possibile stabilire oggi il giorno e il mese perché non sappiamo quale sarà la fornitura di questi farmaci per aprile-maggio. E ancora, finora abbiamo vaccinato 30.000 over 80 su 133.000, dobbiamo esaurire la copertura per chi precede in questa classifica, poi passeremo alle persone più fragili con patologie. Sul numero verde 800 936 677, disponibile per la prenotazione, ho invitato alcuni cittadini a rivolgersi qui, specifica Saltamartini, in questi giorni il servizio verrà rinforzato. Ricordo che molte informazioni dipendono dall'evoluzione della situazione della fornitura dei vaccini, solo alcune richieste possono essere soddisfatte. Se l'Italia avesse intrapreso la strada della produzione, probabilmente non saremmo a questo punto, incalza l'assessore, che ancora sulla prenotazione per docenti e professori universitari dai 65 a 70 anni ricorda, questo personale deve essere vaccinato con Pfizer Moderna e segue il target degli ultraottantenni e quello dei fragili. È impossibile stabilire adesso quando verranno vaccinati perché dipende dalla fornitura. Poi i dipendenti pubblici, tutto il personale dei servizi pubblici, deve essere vaccinato con AstraZeneca sulla base delle forniture. Come detto, questo obiettivo risulta davvero prossimo, ha concluso Saltamartini.